11.000 visite per oltre 9.000 pazienti nel 2020 e quasi 14.000 visite per 10.000 utenti lo scorso anno. Questi numeri dell'Unità Operativa Complessa di Endocrinologie e Malattie Metaboliche dell'Ospedale Santo Spirito di Pescara, diretto dal dottor Agostino Consoli, che questa mattina nel corso di un incontro con la stampa, ha voluto sottolineare il gran lavoro portato avanti dal suo reparto nei due anni contrassegnati dalla pandemia. Nei mesi di gennaio e febbraio del 2022 sono state già effettuate 225 prime visite nel reparto. Qual è l'identikit del paziente che si rivolge al vostro reparto? La nostra è una persona con diabete che si rivolge al nostro servizio ed è una persona che è affetta da questa malattia o in alcuni casi che comincia ad avere dei segni che sono in realtà molto molto remoti. La malattia, il diabete di tipo 2, che è quello più diffuso, è una malattia che si presenta senza sintomi nella maggior parte dei casi. Quindi vengono da noi, generalmente il caso tipico è il marito, che viene portato per le orecchie dalla moglie. E da lì poi comincia un percorso, perché la malattia diabetica, quando parliamo di diabete di tipo 2, diabete di tipo 1 è una cosa diversa, poi ne possiamo parlare, è più che una malattia, nelle prime fasi è uno scomodo compagno di viaggio. Un compagno di viaggio molto scomodo, al quale devi prestare attenzione, perché se non lo stai a sentire, poi ti frega. E comporta una serie di complicanze che diventano quelle sì invalidanti, a livello degli occhi, a livello del rene, a livello dei vasi sanguigni, e quindi cuore, quindi cervello, quindi arti inferiori. Il lavoro dei medici nella cura del diabete è cambiato. Con l'arrivo della pandemia, ma oggi grazie ai nuovi farmaci, gli obiettivi sono ancora più ambiziosi, come ha spiegato il dottor Fabrizio Febo. Il lavoro nostro è cambiato molto, perché abbiamo dovuto fronteggiare tantissime visite di pazienti che erano ricoverati per Covid, perché la prevalenza delle persone ricoverate per Covid che avevano il diabete è molto alta. Quindi abbiamo creato un stretto rapporto con il Covid Hospital e con il Day Hospital per gestire questi pazienti durante il ricovero e dopo la dimissione. Quindi questa era una grandissima fetta. Poi c'era sempre la fetta di pazienti che noi seguivamo in cronico, che abbiamo dovuto seguire anche questa volta con dei nuovi mezzi. Piano piano siamo tornati a una nuova normalità, e questa nuova normalità sarà destinata a cambiare, perché con l'avvento della nota 100, che è una rivoluzione per il medico di medicina generale, i medici di famiglia potranno utilizzare dei farmaci che fino a poco tempo fa non potevano utilizzare. Quindi qualsiasi paziente avesse un diabete anche non perfettamente controllato, o la soluzione era un farmaco vecchio pericoloso, oppure fare un accesso in diabetologia. Dal 26 al 25 di gennaio questo non è più così.